Da 5.200 a 1.600 lavoratori, da 1.300 a 450 imprese, da 52 milioni di euro a 24 milioni di euro di massa salari. Questi sono i numeri dell'edilizia terramana dal 2008 al 2015. La crisi che ha colpito l'intero sistema produttivo mondiale, non solo italiano, ha colpito in particolar modo l'edilizia che vive nel terramano soprattutto di risorse private, quindi di cantieri privati, e ha portato a una riduzione di oltre il 50% sia delle risorse in edilizia che degli addetti e delle imprese. E questo ha fatto sì che la Cassedile arrivasse a dei livelli mai raggiunti finora. Grazie a questa ricostruzione, a questi cantieri nel cratere ma anche quelli fuori cratere, perché 25 comuni fuori cratere dovrebbero sviluppare 3.000 cantieri nei prossimi anni, la nostra edilizia ripartirà. Cosa si prospetta? Beh, si prospetta un'evoluzione importante. Finalmente stanno per partire i lavori dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere. Il comune di Montorio ha accelerato moltissimo tramite l'UTR tutta questa operazione, quindi per quest'estate, se tutto va bene, dovrebbero partire circa 300 milioni di euro di cantieri divisi in 10 anni, quindi sostanzialmente circa 30-70 milioni di euro di cantieri, quindi il raddoppio di fatto dell'attuale edilizia terramana. Grandi cantieri, importanti cantieri, che però se non vengono gestiti con una certa logica, finiscono per incrementare il lavoro nero. Per questo, come Filcacisl, insieme alle altre organizzazioni sindacali, abbiamo chiesto al prefetto di istituire un osservatorio, un osservatorio nel quale tutti i cantieri, prima di essere avviati, passeranno per essere verificati, sia nella regolarità dell'impresa che nella regolarità dei lavoratori, attraverso gli enti bilaterali. In questo modo evitiamo i fenomeni erusivi che hanno caratterizzato la ricostruzione dell'Aquila e che hanno portato circa il 50% delle risorse pubbliche aquilane ad andare a finire nel sommerso. E così facciamo incrementare la nostra edilizia.